Nelle puntate precedenti di Basic Gaia No, all'avocado, non l'avocado Ginko Can't stop, won't stop Peli ovunque Praticamente era uscita insieme al correttore No, non è vero, non era uscita E hanno un mascara più costoso che mi piace Questo qua è una... Come si chiama? Diciamo togliere... Perché, Yanna, ci fai questo? E noi ci vediamo nel prossimo video Ups Sembro grigia in video Perché? Ho utilizzato il sera l'acido ialluronico Close up Distrutto tutto Può sembrare veramente una stupiggia... Una stupiggiaggine Ho rovesciato praticamente metà dell'acido ialluronico sul tavolo Perché non l'avevo chiuso Di... Astra No, non è vero Per evitare di buttare via un video intero Ho deciso di fare un get ready Però per evitare di buttare via un video Ho deciso di fare un get ready Niente Oggi Non so parlare Ho due storie E... Dato dal fatto di... Vi avvicino Sono buia? Sono buia Troppa luce? Tutto a posto Mi fa sempre ridere quando mi tiro giù con la sedia Ciao Spostiamo la candelina Non ho troppo Vi volevo far vedere il full proof brow powder Brow... Il full proof brow powder Pader Father Che bello non mettersi gli archini da una vita E aprire il buco praticamente Per fare la brush challenge Ce l'ho fatta Vado prima di tutto A mettere un po' di Fury Fury Tipo Questo qua A linga di gatto Cioè raga l'ho aperta E la matita è tutta fuori Ah! E l'ho anche persa Ce l'ho fatta Al caduto i denti Per l'occasione dell'uscita Della giotto Non ce la farò mai a dirlo Quindi il livello di cioccolatosità Come si dice? Stava Cade tutto Ho il C7 E il C2 Dotto per sopracciglia più Ancora da aggiungere Questo Aia! E noi ci vediamo nel prossimo video Oh madonna Sanna Stavo buttando giù La softbox Fin verso Fin verso Vado a mettere Eyeliner Che è Vado a mettere L'eyeliner Che è Vado a mettere L'eyeliner Che è Il Vado a mettere Il Non riesco a dirlo E noi ci vediamo In un prossimo video In un senso Non ero pronta Con la mano Del peace out È il Bad Galben Bad Galben Vabbè Moving on E vado a sfumare Oh madonna Santa Massa palpebra Ragazzi È un triturio Di pieghe Ovviamente Ho dimenticato I pennelli No? Sembra giusto E adesso La matita Ho dimenticato Che palle Che brutta inquadratura Questo specchio È tutto l'ergio È quella Traslutto Bene Quel pennello Non l'uso più Ne prendo un altro Pulito Per fare un look Semplicissimo Ho usato 40 pennelli Un'uscita Ciao 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 Cane TV Comunque Ci siamo Dimenticati Di dire Aspetta Vorrei fare Che è duro Non ci sta vedendo Saludare Quelli che ci hanno guardato Alexa Stoppati Cosa devo ricordarmi Di portare In valigia Per la Lapponia Nessun promemoria È in programma Sei veramente Inutile Bellissima Questa portetta Mi devo fare vedere L'outfit del giorno Outfit Outfit of the day Sì Mi sento pronta Per una sfidata Nella fashion Vieni Basta Il paesaggio è molto bello Guarda Non me l'ho fatta In realtà mi spiace Non essermi buttata Oddio stavo cadendo È tutto salato È tutto salato Yey Belli questi ciuffi di capelli Che partono dalla mia testa È quella di fare Tutto il conto È quella di fare Il conto Il È quella di fare Il È quella di fare il contour Come lo dico di solito Il contouring Ecco Cosa dico Ale Ci sono tutti Madonna che capelli Non sono tutti lisci prima Vabbè Quindi voi Se siete arrivati a questo punto di video Commentate con una bella palma L'ispirazione Arriva Dalla Per la nuova Diagonale Diagonale Noi capelli C'è un capello L'ho perso Non so dove l'ho appoggiato Perché davanti a me Non potete capire Che casino Ci sia Oddio Fin nell'occhio Me lo sono messo Ora Per una dieta equilibrata E per migliorare Il nostro metabolismo No Colesterolo Perché non riesco a dirlo Fantastico Adesso vado a prendere Pure L'avevo provato con top Ma venivano Cominciamo bene Questo è venuto troppo grande Tu Farlo con un Con un Mi sto veramente Prendendo bene Con questi capelli Da un leggero flashback Devo essere onesta Però Non Non Ah già ma flashback È una parola inglese Stavo ruttando Mentre faccio Ciao a tutti Forse sono troppo vicina Alla pianta Nello specifico Fatte con Iniziamo bene In questo video Del no make up Make up Fare un What I eat What I eat Se non mi seguite Su Instagram Questo argomento No 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 Lo scuolino Nell'occhio Non me lo merito Il modo migliore Per Ai Ups Essence Che sono Il tubicino È tutto Va perché Vabbè il tappo rimane Allora Si Provo a sprucciare Oddio Quanto sto parlando Mi sembra di correre Un eyeliner Un No Questo mascara Avete cercare di biccare Più o meno La stessa angolazione Io vi sto parlando Con la paletta davanti agli occhi Provate da OVS Supercharged Gloss Vabbè ce la faccio Supercharged Supercharged Qui provo Quello che non ho provato Ops Anticernes Cosa vuol dire Anticernes Pure il pennello Si sta rifiutando Di sfumare Oddio come l'ho messo male Vado a mettere uno Di nuovi Stardust Gloss Gloss Oh Mi piace moltissimo Il W Il W Sono tutte storte Le labbra E lei lo va a mettere Con Io Non ho preso il pennello Tu l'ho messo E io Vadrò Vadrò Dimmi dove Quando Dimmi dove Quando Non ti conosco E già sento che ti amo Saluta Tutti Adesso C'è Il pennello che mi Il secondo punto Non mi ricordo Non mi ricordo bene Quale fosse Il secondo punto È che Fa un Cato Ho mischiato Praticamente Feelings Comfort Z Z Vediamo se Va bene Mi muore La voce in gola No vabbè Col dito sporco Di glitter Ma perché Sono così Quindi Oltre a cercare Refrigerio Refrigerio La cosa divertente È che non ho la tosse Tutto il resto Della giornata Poi mi metto a registrare Un video E mi viene Ma perché Mi sono appena Inondata D'acqua Mi si sta sciogliendo Uno space bun No Ovviamente Una cosa Stemizzita Lei ne ha Stemizzata Qualcosa Nell'occhio Cerco di correre Correre Mi si sta prendendo tutto Non farti le unghie Sul Aia Ok Dopo Certo mi guarda strana Perché Vloggo Comunque io direi Che sono abbastanza Brandizzata No Tutto il mascara Nei capelli Si è già spenta la luce E non ho ancora Neanche messo Il fondotinta Questo Spavento Tra parentesi sto leggendo I pilastri della terra Di che Stavo buttando giù le lampi Ho perso il filo del discorso Perché mi sono persa Cosa stavo leggendo? I cambiamenti Oliver Su Giù Bravo Eccoci qua Ecco Ecco Sbadiglio un po' Fatti il bidet E siamo a posto Questo era il mio gabinetto Mi devo preoccupare Comunque Lo vado a mettere C'è qualcosa che mi fa Sto usando mix di fire e respect Respect soprattutto Mi sono strappata via un ciuffo di capelli Facendo questa cosa Che lasciano La chose Di La chose Assolutamente si E' una Ups E' una Ups E' una Ups Si Ma L'audio in questo video Sarà peggio Nei miei video Adesso vi facciamo vedere Close up Non avevo visto Che stava spuntando Un nuovo amico qua Meraviglioso Che non è che mi abbia mia Mai Mè 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 Ah ma sei Vendendo in qua Ma sì ma tanto Cioè sarà silenzioso Si si Stai facendo una review? Si Quale fondo? Urban? Madonna Ma donna Mi sono un battito Si Continui a servire Non dire Faccio Autorerie 20 minuti di ripresa Solo per farci una maschera Prova a metterla su Ero io Se non facevo cadere qualcosa Comunque Troppo Ega ya Vabbè Questo devo dire Cioè Devo dire che forse Mi piacciono più I matt degli opachi No Cosa vuol dire Questa cosa? Ora Mi sa che prendo String Sting Non string Ora mi sa che prendo Sting Oh si spette la luce Anche il rossetto Si va bene il rossetto Con alcune cose del calendario Dell'avvento Tutto a posto Poi abbiamo questi Ring And Braceless Braceless Quindi Prova a metterci sopra Mi piace un sacco L'effetto di questa Oh si è spenta la luce Ma che strano Credo di essere Credo di essere No Credo di avere E l'ho messo anche Dove non dovevo Vabbè Sono più bassa in questo video Cosa ho cambiato? Cosa ho fatto? Comunque ci sono cose Perché non riesco ad andare avanti? Dei pallini Aia E E E E' davvero carino Secondo me Cosa sta succedendo Qua fuori L'apocalisse Ha la maglia Rossa E Ovvio Persona ciglia Infatti Se mi seguite su Instagram Avrete Ok Alexa Sei pronta A Decidere come mi truccherò? Purtroppo non trovo La risposta alla domanda Bene La prima collaborazione Di Makeup Obsession La prima collaborazione Di Makeup Obsession Perché non riesco a dire Makeup Obsession E dico Makeup Obsession Che all'interno è Potrei fare dei colpi di tosse Al posto che il battito di mani Per mettere a posto il microfono 3 2 Ma perché sto facendo il conto alla rovescia? Ah Sto stanca Dove mi hanno lasciato i pennelli? Ah Anche questo mi è Ah Mi sono morsicata la lingua Possiamo passare a Contouring Bra B B B Ho aperto al contrario Sono davvero così scema Questa tonalità è Sterry Night Sterry Faccio l'ansia Come quando ho dato la maturità Non come quando mi sono laureata Ma Come quando ho dato la maturità Quale facciamo prima? Facciamo il tuo Perché è complicato E chi avrebbe detto Che è più complicato? In un'altra lingua Questa parte di video No aspetta Lì Un video è difficile Un video è difficile È solo Come Pombi è dato dal van Della Volt Non riuscirei mai a dire Se no furgoncino Ok Faccio la veloce Le sopracciglia Con la No si è già spenta la luce Lo sapevo Mi sono appena resa conto Che non ho preso I pennelli occhi Mi toccherò con le dita No mi devo avvicinare un po' Oddio Che casino Ci siamo o no? Si signor capitano Allora Siamo a fuoco Siamo bellissime Favolose Possiamo iniziare Comunque oggi siamo qua Perché Zalando Sarà un video lungo Hai mangiato lo ginger? Ancora no Sì una birichina Devo venire io qua a casa A fartelo Eh Questa è un'idea Comunque in videocamera Si vede che abbiamo Due colori diversi Cioè Vicino a te Io sembro rosa Sì è vero È vero Io sono molto più Gialla Oliva Gialla oliva Oddio Sei un po' Parisa di inquadratura Sorry Sto pensando Marta Marta Dumped Dumped In the flesh It comes to the school You should shut up Heather Sorry Heather Quelli sono gli amici americani Oh my god Comunque TikTok si sta facendo male Si sta rovinando la vita Direi basta Dobbiamo levarci Dobbiamo levarci No è troppo bello Sono felice di aver avuto La crisi di mezza età E di essermi iscritta a TikTok Beh non siamo solo neanche Fiorello L'ha avuto Anche Will Smith Eh anche Will Smith Che poi tutti lo fanno al contrario Sì Nel mondo io Stavo morendo Cosa sto facendo Non lo so neanche io Oh non ho preso i pennelli Il cerchietto Niente ho preso Che è un correttore E Concealer Quindi correttore E Aspetta Il correttore è un consiglio Genitore 1 Genitore 2 1 Omo 1 E 2 Che bello il trash Ah già ma io stavo facendo il TikTok Mi ero già dimenticata Posso anche usare i pennelli Ups Io ieri sera non mi sono poi struccata così bene Che ha le caratteristiche di un blurry Che ha le caratteristiche di un Blurring Blurring Che ha le caratteristiche di un No non riesco a dirlo Che ha le caratteristiche di un Blurring 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 Primer Blurring Primer Non riesco E voi adesso Non so parlare oggi Il Farsali Unicorn Ma perché non mi metti a fuoco oggi? Non ti piace la mia faccia? Ho perso il filo del discorso Mentre parlavo Devo ricominciare da capo Ho appena notato che sullo schermo Del mio telefono c'è un'impronta di Scarpa Come c'è finita? Chi lo sa Forse è un po' dal sole L'ho abbassata ancora di più Ho perso la spugnetta Mi c'ero seduta sopra Che ha proprio proprietà È veramente difficile da dire Non far vedere troppo il macello Che c'è nella nostra casa per favore Basta Stai filmando? Sì Che bello che l'ho detto Vabbè Ora capisco perché Shay lo dice sempre Vabbè 3, 2 Non so fare i numeri con le dita Vado a prendere Oddio Le sopraccine non le ho fatte Tarararam Ma che fail Ho fatto tipo questa roba allungata E ho utilizzato Sia me Ma che cosa fai Comunque io ho un genio Che mi sono messita tutta di nero Per venire da Semora Non la pianta Non la pianta Sei soddisfatto della tua scelta? Eh topino Ma io richiedo No Parlando Oddio Quindi oggi Non so che look andrò a fare Ho già sbagliato Ok Ah già no Ok non lo posso dire Perché è una parola inglese Che è il colore più chiaro Shimmer No E aggiungo E aggiungo Non mi piacciono le luci dietro Ho appena distrutto Independent Cioè praticamente L'ho scavato del tutto Il consiglio Il consiglio Poi la close up Night Night No Poi la close up Na Poi Le faccio Strike Tutte le buttate giù Le facciamo Ok ci siamo Aspetta Uno Due Tre I potenti mezzi Per la registrazione La moneta da due euro Per fare perno Per tenere aperto Il gatto Hanno addobbato Oddio Pesa più Oggi Che in realtà Non mi ho ancora detto I miei capelli oggi Cosa fanno Accidenti Com'è che non sei X Factor Oggi siamo tornati Nella rublica Nella rublica Dove l'ho messo La fascettina nera Ma poi va a mettere Tre Si è spenta la luce Scrivente Ci hanno già iniziato Con i petardi E lo vado a mettere Il Rose chip Rose chip È sempre un pennello Tanto sono magnetici Quindi Ops Grazie per un altro Fantastico anno Passato insieme Nella speranza Di riuscire Ad appropriarmi Del canale Di Gaia Vi auguro Un felice 2020 Se siete arrivati A questo punto del video Commentate con Anti Cernes T пост www.e Abbiamo